eh fai la posizione di Cire e tu lextro ti vai a da con ste sai cosa fa Cire lextro? in fondo vai in fondo a ste montagnette aiutavamo sull'alto non si fa a cantare eh ok in fondo vado io a fare il giro vado io a fare il giro ah ok 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 tu stai alle montagne è sciotta va bene va bene ok Cire percorati per il prossimo round carica GioWire sono già... sto già caricato questa è il round un po' x vai su dai go uno si arriva davanti davanti con il proprio fianco eh è qua sopra eh non ho capito stai coperto dammi il tempo di girarlo down bravo lex down ok adesso uno torna sicuro subito vai 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 verso c torno io uno e ste prenditela c chi è lì chi è lì? van prendila dai che amazzini uno l'ho fatto vecchio vai in sciallo beh dai 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 lex dagli una mano c'è uno ste uno ste è scottato oh madonna 3 3 3 adesso 3 down uno ste fallo dove? no 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 serve il largo si 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 la mia restate ci stanno girando largo tornate uno solo lo più laci uno metal 2 metal non tutti ragazzi una ponte e uno una one shot 2 2 2 2 2 ce n'è uno qua davanti una u down uno ce n'è una ponte aiuto arriva arriva è passato ponte ponte gira va una u una u e va in capo a c un in capo io non capisco ragazzi se siete su prendete io uno ste uno ste uno mid B dai prepariamoci per B aspettateci non morite down sotto ponte bella per te è molto low uno 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 glitch uno uffici dai pusciate verso c già dai ci siamo ci siamo uno guarda si si lo vediamo lo vediamo lo vediamo fatto bella la metto in conto ce n'è ancora uno eh occhio a ste vai io sono in c guardatemi ste mi arrivano da ste nooo quanz'è qualsiasi però no dai occhio è molto low sono ad alpha due ste due ste due ste vai io resto in c io resto in c sono in ponte sono down in bridge vai vai in fondo vai da sono a B sono a B loro eh sono a B vaffanculo due B uno alpha uno ste vai con lez aspetta uno ce n'è uno su A beh uno solo su di me aspetta vai il C dovevi serve il G per non farti vedere ecco ho fatto uno sopra C e un altro C quasi fatto ste che cazzo occhio beh 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 down via vai corri corri via vai verso B vai verso B vai verso B è AC2 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 dobbiamo prendere ste dobbiamo prendere ste sono due ste due ste due C vanno in B arrivano Orec Orec down uno c'è un altro e uno sotto ponte dai raga però forza raga dobbiamo girare passiamo per ponte uno in A uno down sotto qui vai vai down down vai c vai c vai c vai c pusha down questo qui dami down in mezzo a B down in mezzo a B dai sono i capci sono qua da una stella in alto arrivo avanti sono dietro sono dietro non morire chi è largo un altro in alto in alla porta metà al davo grotti bravo 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 c'è non ti resta se non fai niente non fai niente si si torna con una roba e dove largo penso non sopra raga dovete solo guardo ponte ho fatto quello sopra guardo ponte c'è uno steve a favore che ci sta sopra da teniamo teniamo così sotto ponte mi sa sotto ponte 1 da un ponte 2 da un ponte vai in fondo vai 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 che la capiamo sono due uno sta larga uno largo ma lo faccio uno spottato proletton volta TI è lì vallo che sta tornata per la verda per capo io capo il poi è morto ormai fatto ok io non ho colpi però per l'amore ciclone apercivano loissimo ci un'altra colpi vado nato 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 Sto cappando io Si ok ok Perché hai lasciato ste? Non fa niente vai Mi rompi il cazzo da lì Non stanno cappando sono in metal Cazzo M'hanno fatto a D Dove dove? Fatto uno Ponte ponte Da uno Hai visto? Mi hanno fatto a B 2 A B 1 U 1 glitch adesso Ste 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 Stai vivo che arrivo Forse Uno down No cazzo Altri due ste Mi sa No cazzo Dai dai Cazzo Non so guardiamo Io sono in C sto guardando C C Ok C va bene piazziamoci Lasciamoli lì Mi allargo io a destra Alpha No ad Alpha Ma come fanno? No bacchiamo in C Cazzo Cazzo Dai attacca B Nex Bacca te Guarda B Stato con la nada B in contest Occhio a B No cazzo Down B Uffici C'era fatto Eh Spottato Occhio L'hai fatto uno Lex? Si uno l'ho fatto Sì Nostra Dai possiamo un po' Ficchiamo Ficchiamo Sono spawnato da io eh Cazzo Che è morto Vai con lui 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 Ho fallato Capi te Si si raga qui 2C 2C Andate su di lui per B Non spawnate su di me Aspetta Non spawnate su di me No ce n'era uno da Infatti io so spawnato Cazzo Cazzo Occhio Dada ci spawno ormai ad Alpha E' lì davanti sulla sinistra eh Dai vaffanculo 2 fuori Che cazzo Raga ce ne ho tre addosso a me Che che fate Dai Uno ste e due che stanno in C Ma m'hanno fatto C'è Sono rimasto vivo Mezz'ora contro tre Basta Andiamo con una flag Basta 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 Cazzo Cazzo Cane Oh god Ma dimmi si ci può fare spawnare In mezzo 2 down Uno down Capiamo Vai 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 Cazzo Cazzo Veloci Mi ha perso un botto di ticket Dai raga Eh Uno one shot Uno va ste Uno down Uno ste Di fare ste Eh no Perché Perché M'ha trovato in mezzo vecchio Sto andando a prendere io ste No Ce ne uno sopra No raga Ma perché andate verso A Ma capiamo una flag Vabbà Calmi raga Calmi raga Calmi raga Unito il giusto controllo Vabbà ragazzi Uno è lungo ad A Che cazzo Perché non ci si Un corpo ste Uno B uno ste Dai midter Forza raga midter Ste Ah vai Non puoi Non puoi il cazzo ste Uno down scala Rompi il cazzo ste Ste down K Ce n'è uno qua Due qua Uno down Lex altri due No Ponte Teniamo Occhio C Occhio ste torna Staranda C Stanno C dietro No Due na Due na Due na Due na Ancora uno Eh fermo lì Metal Sono metal Gro sono metal Una down Uno down Gro metal Guardati metal Gro Guarda guarda La sto prendendo io ci Vai andate andate Ce n'è una ce n'è una Peppe Eh lo fa vamme Me lo fa vamme Guarda di titolo Guarda di titolo Sto facendo Sono qua Alex Teniamo solo Uno down Teniamo solo Tenete a Qua da la tena Tenete Hai verso Uno sopra Hai verso Tre down Scappagli la Guardati down Quattro down Bravi Ragazzi Si può vincere tranquillamente Sono qua a C Eh uno stay Down Fanno a C Va bene non è importante abbiamo già fatto a B Si vede che abbiamo giocato da tanto Abbiamo rischiato di perderla cazzo Beh abbiamo perso 100 ticket a cazzo ragazzi eh Ma si è sparato a sorale Non me frega un cazzo Dobbiamo Non dobbiamo perdere la concentrazione Devo entrare io? Va via a te Ma posso? Ma posso entrare? No va via a te va via No si ha detto Peppe almeno Boh In teoria in pratica non lo so Quindi cosa Ah ok allora no Vabbè Vedere te l'hai manciata bene Beh Vergogna di grotti Vergogna Vergogna di Vabbè Capoeci Ragazzi Tre formogine li volete Un'altra sinistra Uno down Uno sotto Un altro to a B Un altro down Una b Oh ho fatto l'altro b Ho fatto l'altro b Ho fatto l'altro b Ho fatto l'altro b non lo so c'è una sola ponte ce ne sono due piga, c'è la sua famentazione sono dietro, sono sopra sono tre adà, sono tre adà sono tre adà sono a C, stai vivo a C vieni su me no, ho sbagliato, sono andato adà è bravo aspetta C, aspetta arriviamo è qui sotto ma ha fatto da B, ma ha fatto cazzo ma che cazzo ma cazzo la bc la prendiamo a me m'ha fatto da B sbagliato io timing ce ne sono due a B muovimoli con c'è oh è sceso, è sceso, è sceso, viene su nuovissimo, stai buttagli nate oh no, le nate scusi, cazzo andiamo sopra su sopra uno ste un uffici c'è fatto bravo, andiamo a far uffici bro sopra, 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 fici, fatemelo fatto qui cazzo una dama ha fatto occhio che è largo, dai va bene ma che cazzo è stava andiamo da bravo da bravo cazzo è largo eeeh, giro me ce ne sono due bridge t, t, t ho fatto t sei buttato un altro, sei buttato un altro non farti fare bridge, non farti fare bridge no, 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 non faccio fare no, me l'ho fatto, sono t a farlo al glitch eeeh, attenti sono in tre te riesci a farlo no, cazzo farò un dash arriva uno si, lo so 2 bridge 1 B 3 B 1 ponte merda no, merda B, B, B un altro mezzo proprio uno down largo c, le guarda uno sopra C uno sopra C dai, 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 dai uno down B dai, dai, dai pusciamoci sta B uno sopra Ponte ma si nasconde sto pronto di merda uno a te uno a te uno a te uno a te sono due sopra Ponte due merda due down anche C c, figa cazzo è quello a te vai dai è quello a te te ho capito, ce n'è anche uno a B tutti e tre la dietro però non andate bene eh, no, cammini dai, vabbè dai, dai, dai uno uffici pure uffici, uffici, uffici uffici questo è ancora vai, vai damo fatto, stai capo dal glitch 2, 2, 2 dai, dai che li facciamo sono, non aprile il gioco ma che gli dico dai, ti chiedi a stagranauta e la minima sera, fisicamente e la lancio nel panino Grigia! Si capisci Peniamo anche mail dietro Si vado vado a difendere A Cazzo Una va sua No, cazzo Vabbè, io non lo so L'ho aspettato 40 minuti di partire Si, ho capito, però così mi prendi in starting B Ma non l'hanno preso poi Te lascio perdere Come no? Mi sembra che l'abbiamo perso L'abbiamo perso Mi prendono C, eh Aspettaci Aspettaci No Vado giù di me Dove comunque prendete A Tre A Vado su bicchia, su bicchia Un'altra Non sporare su di me E dove cazzo vado Random Random un'altra C'è un'altra Andiamo a difendermi Che cazzo di culo Sono qua a C, eh Due sono a C Fatto uno Dai, dai Sei bus Ragazzi, sono in contest da B Ragazzi Due B Dai, dai, dai Dai, dai Ah, uno bridge Eh, però ti fai fare sempre Ok, stai fatto uno Uno fatto in B Sono due sopra Dai Cazzo Ragazzi, uno stai Ragazzi, perdiamo A Occhio, dai Gli stai Basta Basta Gli stai Tornati Stai Tornati Non so di me Tornati 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 Sopra Ma cos'è, nai Corazzo Tornati Sopra fai adegare che stanno beccando giardi dai ste ste uno ste uno su ottoponte guadagno vabbè come ha fatto! uffici 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 pure gazzopri è giancho dai figo zio cane dai 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 tempi se qualcuno può difendere arropeccando rilugione metti il mio amore la pittata di carai l'arco 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 mai sentito che deve far 222 attivano da vogliavola troppo pure l'arco l'arco danno sicuro che accennato ponte ponte vabbè ma che palle 2 3 l'arco 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 da tecnici 3d questo ciò spazio ammessi 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 qualcuno lecci non non c'è non c'è adesso è l'ex io carne ha fatto lecci non ha visto ballo ok torno su b non mi restare prendila e io vado aiutare b b arriva già uno un altro c è arrivato è arrivato uno c è arrivato uno c dov'è dov'è a c sta cappando dove stava dove sono morto io proprio no merda mi ho fatto anche da vedeteci vedeteci chi la prendo dai via ottimo ping c'era eh perché c'ho 16 dai prima c'entra c'è un altro c'è un altro vattene 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 l'hai fatto? ponte o sotto ponte due non sotto una è larga in strada e una è sopra no però non sfidarlo così no vabbè ma vaffanculo no no sono morto due ste due ste dai andate perci ah tiz lo a scale b no son due son due a b c'è porco dai dai schifate figa beh non ti far fare dai 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 occhio a quelli che beccano adesso io sto guardando dietro lì che è stato uno ce n'è uno ce n'è uno è down capo io che ho poca vita e arrivo a uscire stai vivo un altro b un altro b staccappando dal loro side un altro uffici fermatevi il capo di b fermatevi il capo di b ragazzi ho fatto un altro no 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 sono stesso dei uffici un hugo 2b 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 3b 3b Sulla 2b 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 3b 3b 2b lancio le granate vabbè sta vivo, sta vivo, no, sta dietro, eh, figlio vabbè, prendete gli A prendete il B o no sto prendendo B ma muoio ah, addio sto lavorando dai, andiamoci, andiamoci dai, andiamoci uno down B è uno e mezzo B è quasi morto quello B dai, andiamo, vai B, vai B, vai B uno down vai B mi ha fatto stemme, mi ha fatto stemme ste, ragazzi, ste, guardate la mappa di cazzo, lascialo un attimo ste eh, meno male dobbiamo prendere B, ragà eh, ce la stanno prendendo l'O non rischettarla ste, perché trovo down, ste mi hanno buttato la mappa così fermi dai, dai troppo tardi no, perché mi ha cioè, sto sparato come un'anionata sotto lì cazzo dobbiamo andare raga, B, raga, B B e C no, dai dai vai lì non so, non so, non so no, non so, non so non so vabbè non ci si comporta comunque così, dai dai, Peppe loro non si sono lamentati niente cioè, su user joined your channel non so no Grazie.